ciao se avete un padre che devo fare prima la pancia e poi la zucca quindi va bene così poi insieme al cifone e figure pesche e pezzi uno peggio dell'altro così è ciao 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 passano passano che si incazza come una bestia se gli passi da parte si incazza come una bestia ma cosa stai facendo? cosa stai facendo? via come nuovo oh Grazie.